Devo fare una grandissima premessa per questo videogioco, non so che titolo avrà questo video ma è tutto vero, stiamo creando un videogioco 3D web Utilizzando un programma che pochi di voi conoscono, sto parlando di Play Canvas Devo fare però una grandissima premessa, come sapete io ogni giorno quello che faccio è creare videogiochi in construct Creo videogiochi per i miei clienti, sto facendo dei progetti che non vedo l'ora di condividervi E allo stesso tempo per andare avanti nelle idee, nello studio ma soprattutto nei progetti che voglio offrire ai miei attuali clienti E ai miei futuri clienti ho deciso di fare degli investimenti, ho deciso di allargare un po' quello che è la squadra Attualmente sto lavorando con questo ragazzo di nome Michele che vi farò presto conoscere Che lavora già nell'industria di videogiochi dove mi sta dando una mano comunque insieme Stiamo creando un piccolo videogioco, infatti devo fare questa grandissima premessa Il gioco è stato creato interamente da lui, quindi utilizzando JavaScript, utilizzando Play Canvas Quello che faccio io in questo caso è tutta la parte di gestione, quindi progetto il videogioco insieme a lui Sto chiamando in questo caso un modellatore o più modellatori che andranno a realizzare i modelli 3D E andiamo a realizzare quello che è il nostro primo prodotto di videogioco in 3D web ovviamente Quindi giocabile da qualsiasi dispositivo, basta che uno ha una connessione ad internet Faccio questo video a fine giornata, infatti sono distrutto, scusatemi se sono più pazzo del solito Ma a fine giornata sono sempre così, infatti devo andare assolutamente a farmi una doccia per calmarmi un po' Vado su Projects all'interno di Play Canvas, trovo Jumping Ball, vado ad aprire questo progetto E vi faccio vedere proprio come funziona Vado direttamente a cliccare Play e poi entro nell'editor, così vi faccio vedere anche le differenze Tutti i modelli che vedrete attualmente, anche i colori, sono strabozzati Sono dei colori che non ci stanno, stannano tantissimo, quindi non vi preoccupate Però voglio farvi vedere quello che è il progetto attuale e quello che sarà il futuro di questo progetto Quindi adesso ve ne parlo e volevo fare questo video prima del rilascio ufficiale di questo videogioco Perché ho detto raccontiamo, così magari qualcuno avrà delle domande in particolare E potremmo rispondere insieme a Michele proprio all'interno di un video a queste domande Quindi forza con i commenti sotto a questo video e con un mega pollice in su se vi piace questo contenuto E prima di vedere questo gioco iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Clicco sul bottone Play L'obiettivo di questo videogioco è un classico hyper casual games Quindi vogliamo creare un gioco strabasico Per iniziare abbiamo fatto questo videogioco dove le piattaforme si spawnano all'infinito E l'obiettivo è semplicemente andare il più avanti possibile Come vedete i modelli sono abbozzati, il colore non va bene, dello sfondo Ci sono questi blocchettini che non hanno affatto senso Ma ora vi racconto, il gioco è molto semplice, si divide in tre aree Destra, centro e sinistra Con la freccia verso destra vado a destra Con la freccia verso il centro vado al centro, infatti adesso ho perso Con la freccia verso sinistra invece vado a sinistra Come si gioca da mobile è la stessa cosa Destra, centro e sinistra, quindi tre input diversi Questo videogioco però come funzionerà? Qual è lo scopo di questo videogioco? Lo scopo di questo videogioco è rilasciare questo videogioco attraverso dei publisher web Quindi attualmente fare degli investimenti nel creare dei prodotti più o meno completi In modo tale che io e Michele possiamo imparare a utilizzare Play Canvas, soprattutto lui Perché io sono ancora all'inizio, devo vedere molte cose Quindi attualmente devo concentrarmi su quelli che sono i lavori attuali per i miei clienti Videogiochi 2D, ne vedrete delle belle E questi giochi ovviamente verranno poi utilizzati anche come portfolio Per iniziare a vendere progetti 3D a quelli che sono i nostri clienti attuali e anche in futuro Quindi nel 2022 mi piacerebbe fare piccoli progetti con Play Canvas più o meno complessi Ma questo videogioco si trasformerà Il nostro obiettivo è realizzare un videogioco di calcio Quindi non sarà uguale la meccanica Ma ci saranno dei giocatori La palla verrà passata tra un giocatore e l'altro Non in questo modo ovviamente con un saltino Ma semplicemente trascinando la palla su una linea E questo sarà l'obiettivo Ora voi adesso vi direte Samuele, hai fatto giochi di una certa, secondo me, importanza Ho fatto giochi molto complessi Se andate sul mio sito samuelesciacca.com potete vedere tanti giochi Abbiamo fatto il gioco di Chiara Ferragni Il gioco ufficiale della serie TV LoL Grid è fuori per Amazon Cartoon Network, tantissimi giochi Perché questo gioco che è molto semplice, è un po' una cafonata Perché anche i colori attualmente lo sono L'obiettivo è quello di studiare l'engine Di vedere tutti i problemi Quello che stiamo facendo adesso attualmente Ci siamo resi conto che per raggiungere La qualità estetica che io voglio raggiungere Che ci tengo tantissimo Ci siamo resi conto che a livello di rendering Dobbiamo lavorare con degli shader Quindi stiamo anche cercando altra gente Voglio fare degli investimenti Per capire se può valer la pena Utilizzare un engine di questo genere Per fare videogiochi 3D Oppure utilizzare un 3JS O qualcosa di più nativo Ma come state vedendo Se io vado ad esempio ad aprire anche l'editor direttamente Mi faccio vedere Il gioco è una figata Cioè nel senso Il gioco non è così tanto complesso Non sono neanche tantissimi i codici Se io vado ad esempio in basso Ovviamente perché è tutto molto strutturato Play canvas è molto simile agli uniti 3D Mi basta semplicemente andare sugli scripts E posso andare a vedere tutti gli scripts Quindi camera follow E ho lo script in javascript C'è un po' di lavoro ovviamente Michele ha fatto veramente un bellissimo lavoro E questo dimostra che anche per progetti di questo genere Essendo che poi noi siamo abituati in construct E le cose si fanno in maniera molto veloce Qui c'è veramente tanto tanto lavoro dietro Qui è il movement.js Alcuni non vengono utilizzati Sono stati da lui utilizzati giusto per studiare alcune cose Però è una figata Ovviamente entro nel dettaglio Ne farvi vedere un po' il codice Spero presto di poter iniziare a studiare anche io Così magari porto qualche video su questo canale Ma questa cosa vorrei dedicarla più nell'estate se riesco Anche se ho già in programma dei videogiochi che devo andare a creare Fino alla fine dell'anno Quindi cercherò di trovarmi degli spot di tempo Per poter iniziare a studiare play canvas Anche se il mio obiettivo come sapete è quello di avere un team E quindi iniziare a organizzare e creare più progetti contemporaneamente Questo è l'inizio di una nuova avventura per me Perché voglio anche iniziare a imparare a gestire un progetto inside project di questo genere L'obiettivo è quello di creare molti giochi di questo genere Quindi anche due al mese Adesso se ho fatto play da questo progetto si vede in questo modo Perché stiamo lavorando con lo shader Infatti si vede molto molto male rispetto se invece clicco play normalmente da fuori Quindi non vi preoccupate è normale Stiamo sperimentando su molte cose E come vedete si parte da un'idea molto basica Cioè nel senso verrà poi completato di HUD Verrà completato di menu principale Di game over, di animazioni, di audio, di effetti Siamo all'inizio Ci stiamo lavorando pochissime ore a settimana In particolare anche io nel coordinare il modellatore Di trovare reference per creare qualcosa di più figo Si parte sempre da qualcosa di molto basico Ovviamente si potrebbero andare a creare giochi più complessi Ma si parte sempre da cose piccole L'obiettivo è quello di rilasciare quindi durante il periodo estivo Comunque massimo fine giugno Un gioco con tema calcio molto molto basico Per vedere appunto cosa si potrebbe riuscire a fare con questi progetti 3D Come avete visto gli spondi neanche poi continuano Sono settati così fissi Ma poi se vado avanti invece non spawnano Quindi è molto molto basico Tra l'altro Michele ha fatto anche un po' di object pooling Quindi si spawnano le prime piattaforme E poi andando avanti quello che succede è che le piattaforme che ci sono dietro Si trasferiscono avanti Quindi non vengono create o eliminate Create e eliminate le piattaforme Ma c'è un po' di object pooling in questo modo è tutto straottimizzato Tra l'altro ragazzi questo gioco per mobile funziona alla grande Potrei lasciarvi anche il link a dire il vero Potete anche vedere il codice Perché a dire il vero potrei anche darvi la possibilità di vederlo Anche se a dire il vero Tra qualche settimana acquisterò PlayGambas E quindi renderò privato questo progetto Vedrò magari vi condivido un GitHub Vedo un po' come posso gestire il progetto Ne parlo anche con Michele Perché ci piacerebbe che ognuno di voi potrebbe anche vedere il codice Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova avventura Di questo nuovo progetto Ho in mente di realizzare progetti 3D Insieme a un team Ma anche progetti 2D Perché voglio iniziare a fare molti molti più giochi Il mio obiettivo come sapete è quello di creare una realtà imprenditoriale Già da qualche mese ci stiamo riuscendo Stiamo aumentando sempre di più la nostra moneta di lavoro Però ecco l'obiettivo è quello di fare ancora molto molto di più E quindi niente Io sono molto contento di aver trovato una persona come Michele Di cui appunto riusciamo entrambi a investire il nostro tempo E fare una roba del genere E quindi niente Quindi vediamo quale sarà il futuro di questi piccoli progetti Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate E se vi piacciono anche questi video Ci vediamo domani con un nuovo video Ciao 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 Ciao